Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Nel video di oggi torniamo a parlare di GIMP, per cui proseguiamo il nostro percorso alla scoperta di questo programma e facciamo una cosa molto bella, molto importante, una cosa che piace sempre quando si arriva a scoprirla, ovvero i filtri, cioè la possibilità di modificare le nostre immagini con un semplice click. Allora diamo un'occhiata al concetto di filtro, vado ad aprire un'immagine, vado su file, apri, come sempre, e scelgo un'immagine, mi scelgo questa qua, la prima che ho selezionata, la classica foto sempre del lago di Mantua. Eccola qua. Questa immagine è così, io vorrei farle qualcosa, trasformarla in un qualcosa di diverso, un qualcosa di artistico. Per esempio, mi piacerebbe far sì come se fosse stampata su tela, quasi un arazzo, quasi uno di quei quadri di tela. Benissimo, mi affido a un filtro, vado su filtri, ce ne sono diversi, già pronti, già in funzione su Gimp, credo che sia artistico, vediamo, sì, potrei provare applicatela oppure drappeggia, faccio drappeggia. E a questo punto, da solo, il mio Gimp, qua sotto mi si è illuminata una finestrella che lampeggia di arancione di Gimp, eccola qui che l'ho richiamata davanti, dove posso andare a regolare delle funzioni di questo filtro, delle funzioni di questa tela, di questa cosa che diventerà un drappeggio. Non tocco niente per il momento, do semplicemente ok, e poi, senza fare nulla, il filtro trasforma l'immagine a mio piacere, in base a quello che ho scelto. Ti faccio notare che ci sono varie righe verdi che scorrono sullo schermo, perché queste sono tutte modifiche, sono tutte cose che vengono applicate all'immagine, che potrei fare anche io a mano, se ne fossi capace, solo che, come vedi, ci sono vari passaggi da fare, quindi diventa un lavoro un po' più lungo, mentre invece, semplicemente cliccando sul filtro, io ottengo il risultato senza neanche essere capace di compiere necessariamente tutti i passaggi che abbiamo visto. L'immagine sembra che si sia scurita un po' alla fine del filtro. Se io vado a zoomarla, quindi vado qui sotto sulla mia barra dello zoom e, che so, la metto al 100%, la ingrandisco, vedo più vicino la mia immagine, ed ecco che notiamo che sembra stata stampata su una tela, quindi un effetto, ora la sposto per vederla un po' in altri punti, un effetto quadro, quasi un effetto quadro di tela. Premo CTRLZ, oppure vado qui su Modifica, Annulla, Mappa a sbalzo, vuol dire l'ultimo comando che ho dato, e torno all'immagine normale. Ora è ingrandita, ma è l'immagine normale prima del filtro, per cui ho annullato il filtro. Ne provo un altro, vado su Filtri, Distorsioni, Rilievo, Piega, Mosaico, eccolo qua. Ora vado ad applicare il filtro mosaico che dovrebbe far sì, qui posso regolare le varie piastrelline, se grandi o piccole, dovrebbe far sì che la mia immagine sia stampata come scomposta da tanti vetrini di un mosaico, da tante mattonelline colorate, quindi trasformata in mosaico. Vediamo cosa succede, anche qui sono vari passaggi, e tra poco avremo il risultato al nostro filtro. Così si fanno un po' per divertimento, ma in alcuni casi, ecco qua, che la mia immagine è diventata un mosaico. La rimpicciolisco un po' per vederla un po' d'insieme. Ancora da qui si apprezza, rimpicciolisco ancora un po', anche se poi alla fine le piastrelle risulteranno troppo piccole. Ed ecco che l'immagine è stata trasformata in un mosaico. Si fa, dicevamo, per divertimento, per abbellire l'immagine secondo il nostro gusto. Questi adesso sono filtri così, artistici, proprio una trasformazione artistica, ma ci sono anche cose che servono a migliorare la mia immagine da un punto di vista grafico, di luminosità, di cose varie, e un po' alla volta vedremo anche questi passaggi. A zero anche questo filtro, modifica, annulla mosaico, torno all'immagine normale. Vediamo un altro filtro simpatico che magari può essere carino quando si fa qualche album stampato anche attraverso internet, che so, per la copertina o per qualcosa d'altro. Allora, filtri, pagina arricciata, eccolo qua, il pagina arricciata dove praticamente la mia foto avrà un angolino arricciato. Da qui posso scegliere quale angolo, in questo caso ho l'angolo in basso a destra, quindi questo angolo qua sarà arricciato come se fosse rovinato un po'. Ecco di nuovo che do attivazione al filtro, ed ecco che è apparsa l'immagine. Ora rimpicciolisco la foto per vederla nella sua interezza, e quindi questa è l'immagine dove risulta come un adesivo, come una pagina un po' arricciata, e anche questo è sempre un filtro da fare per questioni estetiche. Lo annullo, sempre vado su modifica, annulla, pagina arricciata, e prendo un foglio bianco. Adesso vado a prendere un foglio bianco, allora faccio file, nuova, immagine, do semplicemente ok, in modo che mi appaia un nuovo foglio. Eccolo qua, perché adesso voglio lavorare su un altro tipo di filtro, e vorrei capire un po' il discorso di questi filtri, capire un po' cosa succede a questi filtri. Allora, la pagina è già piccolina, ecco così la vedo tutta quanta. Io adesso decido di scrivere dentro una frase, un qualcosa, una parola all'interno della mia immagine. Vado e prendo lo strumento testo, clicco qua dentro, digito il testo, digito ciao, il classico testo di quando non si sa cosa scrivere, ingrandisco la dimensione, eccolo qua che è diventato bello grande, gli do un colore, colore rosso, ok, e io ho ottenuto il mio testo, perfetto, eccolo qua. Mi piacerebbe dare a questa immagine un'ombra, quindi dargli profondità, se io gli metto sotto un'ombra, questa immagine acquisisce profondità. Allora, come potrei fare a fare l'ombra? Come si faceva una volta ai primissimi tempi a fare l'ombra? L'ombra non è altro che la proiezione della scritta, quindi il ciao più scura o nera sotto. Quindi una volta si faceva in questo modo. Prendevo il testo già scritto, quindi in questo caso il ciao, eccolo qui, faccio qui col tasto destro, qui siamo nella schermatina dei livelli, tasto destro, dico duplica livello, eccolo qua, adesso ora ho due ciao, il ciao normale è un ciao uno, sono due scritte identiche una sopra l'altra. Prendevo che io potrei spostarle un pochino tra di loro, eccole qua, quindi le ho disassate un po' tra di loro, e potrei prenderne una e cambiargli colore. Quindi vado con lo strumento testo, ci premo sopra, da rossa la trasformo in nero, oppure rimaniamo sempre nell'ambito dei rossi, ecco qua così che non è proprio nero nero, dico ok, e gli ho cambiato colore. Questa adesso la posso prendere, allora la posso, la prendo, sono qua a destra sui livelli, la passo a un livello inferiore, e ecco che sembra avere un po' un'ombra, andrebbe spostata più vicino, eccola qua, e quindi adesso ho ottenuto un po' l'ombra, ho dato profondità alla mia immagine. Ecco, questa cosa una volta si faceva a mano. Adesso, semplicemente, c'è il filtro che fa l'ombra, e quindi io ottengo il mio risultato in un baleno. Questo è il concetto dei filtri. Andiamo a provarlo. Scrivo del nuovo testo, quindi prendo lo strumento testo, mi posiziono qui, quindi in un'altra posizione, scrivo corso, corso, facciamo che sia corso computer, corso, eccolo qua, colore rosso, facciamolo uguale, colore rosso, ok, lo posiziono solo così, per il gusto di vederlo un po' in mezzo, lo posiziono un po' in mezzo, e adesso applico il filtro ombra. Quindi vado su filtro, luce e ombra, e posso da qua dire proietta ombra. Vediamo cosa succede. Semplicemente ho cliccato proietta ombra, si è aperta questa schermata che mi dice di che colore la vuoi l'ombra. Va bene, nera. Gli diamo un po' di sfocatura per renderla più normale, un 15 di sfocatura, di quanto la spostiamo rispetto all'immagine originale. Qui c'è già tutto pronto, per cui io non tocco nulla, dico semplicemente ok, e vado a vedere cosa farà il filtro. Adesso questo filtro verrà applicato, in realtà c'è già, ma si vede molto poco. Vado a ingrandire l'immagine, allora questo è il ciao, e questo è, eccolo qua, il corso, e questa è l'effetto ombra, un effetto ombra molto migliore di quello che ho fatto io manualmente, perché qui si è usato un colorino un po' più sbiadito, gli si è data un po' di sfocatura, uno spostamento leggero, per cui un'ombra veramente bella. Quindi i filtri li possiamo utilizzare per abbellire le nostre immagini, e sono operazioni che qualcuno ha programmato, passaggi che sono stati programmati, sono stati fatti, posizionati all'interno del nostro GIMP, e noi li possiamo richiamare e applicare alla porzione d'immagine che ci interessa. Torno a rimpicciolire, voglio vedere un altro effetto ombra, allora intanto questa la tolgo, vado su modifica, annulla proietta ombra, e qui adesso è sparito, ingrandisco giusto per farti vedere che è sparito, eccolo qua, non c'è più il bordino dell'ombra che c'era prima, torno allora a una dimensione un po' più piccola, proviamo l'effetto prospettiva, mi sposto un po' così, ecco, filtri, luci e ombra, prospettiva, questa è un'altra ombra proiettata in una maniera diversa che fa un bel effetto. Devo sempre cliccare su questa finestra qui e dire ok, da qui potrei cambiare anche la tonalità, cioè invece di nero potrei dire senti fammela blu, questa ombra qui, quindi ho scelto il blu, dico ok, ok, e adesso andiamo a vedere la prospettiva, eccola qua, che è come se fosse illuminata da una luce e che viene proiettata la parola corso sullo sfondo. Ecco, qui l'ho voluto fare su una pagina bianca perché fosse più facile da vedere, però chiaramente l'ombra poi la posso applicare anche a un'immagine vera, quindi se io prendo l'immagine che avevamo sotto e vado a digitare del testo, allora, metto lago, lago di Mantova, lago di Mantova, l'ho scritto un po' in grande perché vedo qui che sta andando troppo in fuori, quindi vado a rimpicciolire le dimensioni, sto tenendo premuto per far calare il numero, ecco, lago di Mantova, gli dico che lo voglio bianco, visto che lo sfondo è scuro, benissimo, cambiamo tipo di carattere, allora, il tipo di carattere lo vado a prendere da qui, invece che un sans, prendiamo qualcosa di più simpatico, di più artistico, vediamo se lo trovo, queste sono le varie calligrafie, vabbè, prendiamo questo un déjà vu, non è particolarmente artistico, ma va bene, non voglio perdere troppo tempo guardando quello, lo sposto un pochino qui, eccolo qua che lo prendo, quando lo devo prendere per spostarlo, devo fare attenzione, allora, ho attivato lo strumento sposta, ma poi devo posizionarmi sul pieno, cioè sulla lettera, se io mi posiziono qui lo manco e non lavoro sulla scritta, non sposto la scritta, ma sposto lo sfondo che c'è sotto, quindi, mi devo posizionare esattamente sulla scritta e mettermi, e poi trascinare tenendo premuto per dargli la posizione desiderata, va bene, lago di Mantova, ci mettiamo l'ombra, vado su filtri, luci e ombra, decido di mettere proietta ombra, la facciamo, adesso quando mi dà la finestra, eccola qua sotto, la facciamo rossa, visto che i colori di Mantova, perlomeno del Mantova Calcio, se non mi sbaglio, sono bianco e rosso, quindi facciamo la scritta bianca e l'ombra rossa, do ok, quindi ok per il rosso, ok per applicare il filtro, quindi attendo che venga applicato il filtro, e adesso il filtro è stato applicato, ingrandisco l'immagine per vedere se l'ombra c'è, faccio scorrere per arrivare, ed ecco qua che l'ombra c'è, è abbastanza, si vede un po' poco, ma c'è, fa il suo lavoro, rimpiccioliamo un po' l'immagine, ora, eccola qua, desidero, adesso, dato che siamo in tema, volevo farti vedere una cosa interessante, se io ho fatto questa, questa ombra, questo filtro, ho applicato il filtro e ho ottenuto questa scritta con l'ombra, mi accorgo dopo di volerla spostare, dico, caspita, era meglio se la scritta la mettevo sopra, rimpiccioisco ancora un po', mi sarebbe piaciuto di più la scritta là sopra, ora cosa è successo, che io ho, se guardo la mia finestra dei livelli, ho tre livelli, ho lo sfondo, ho la scritta Lago di Mantova e ho l'ombra della scritta Lago di Mantova su tre livelli, per cui, se io prendo con lo strumento sposta, prendo la scritta Lago di Mantova perché la voglio mettere là sopra, eccomi qua, l'ombra mi rimane sotto e rimane ferma, quindi dovrei prenderla e spostarla là sopra, ma non solo, la devo anche posizionare giusto nei vari, la devo disassare di quello che serve per dare l'effetto ombra e potrebbe non essere così facile da fare, sarebbe stato più facile agganciare i due livelli, cioè la scritta e la relativa ombra e spostarli insieme, vediamo come fare, vado su modifica, annulla, di modo che rimetto insieme le due cose, qui dove ci sono i livelli, vado schiacciando in questa posizione qui, esce una specie di catena, la clicco su entrambi i livelli, quindi la scritta Lago di Mantova e la Drop Shadow che è il nome inglese diciamo dell'ombra che ho ottenuto e adesso se vado a spostare facendo attenzione sempre di colpire la scritta porto con me anche l'ombra che c'era sotto perché i due livelli sono incatenati tra loro e quindi riesco a spostare due livelli in questo caso la scritta con la sua ombra nello stesso momento e ottenere il risultato che mi interessava in qualsiasi momento posso poi togliere la catena e tornare ai livelli normali e dato che stiamo parlando un pochino anche dei livelli potrei anche fare questo allora ingrandisco l'immagine per mostrarti meglio la situazione vado là dove c'era la scritta ecco potrei dirmi mi piace di più la scritta Lago di Mantova con l'ombra o mi piace di più senza come faccio a giudicare questa cosa posso da questo occhio spegnere il livello dell'ombra eccolo qui il drop shadow se io clicco lo spengo e da qua è scomparsa quindi così lo vedo senza allora di solito ci si mette qui così e con così e senza così e con e si dice finché si sceglie con o senza a seconda che piaccia o meno io lo tengo mi piace mi piace di più benissimo torno a diminuire un po' la dimensione della foto per vederla nell'insieme ti faccio vedere altri due filtri che sono simpatici per lo meno che sono giusti per questa immagine se volessi sempre relativo a luci e ombra quindi vado su filtro luci e ombra provo il riflesso lenti adesso vedi di cosa si tratta il riflesso lenti però attenzione ecco questo è uno sbaglio che ho fatto involontariamente ma viene utile per capire il discorso io adesso ho attivato un filtro però il filtro viene attivato sul livello attivo cioè questo lago di mantua per cui non ha senso in questo in questo momento in questo contesto per il tipo di filtro che volevo fare io quindi dico nulla il tipo di filtro che volevo fare io si applica bene all'immagine che c'è sotto quindi seleziono il livello dello sfondo il livello dell'immagine perché è quella che deve ricevere il filtro quindi selezionato il livello vado su filtri luci e ombra volevo il riflesso lenti eccolo qua ecco e da qui posso posizionare questo riflesso lenti lo mettiamo qua dove era più o meno messo lui se io trascino si vede giusto questo è il riflesso dell'obiettivo se io fotografo e nella fotografia c'è il sole l'obiettivo gli obiettivi di miglior qualità di minor qualità perché quelli di qualità maggiore sono quelli che non fanno questo difetto o che lo fanno poco fanno questo gioco qui e adesso dico ok per fartelo vedere e questo fa una simulazione di obiettivo perché magari mi piace un tipo di foto che contenga quella cosa lì ora diamo il tempo al programma di eseguire il filtro se il tuo computer è lento se il tuo computer ha poca memoria potrebbe volerci del tempo per fare questo per fare questi filtri in generale eccoli qua allora questo è quello la cosa più grossa che si vede ma c'è anche questo pallino qui ma ci sono anche questi qui ingialliti uno due e quindi l'effetto dell'obiettivo del sole riflesso nell'obiettivo qui proprio sembra anche il sole in realtà noi c'è il sole ce l'abbiamo già quindi sarebbero due due soli è un po' troppo però è un filtro anche questo ed è simpatico questo filtro qui è stato attaccato sul livello di sfondo quindi questo non posso spostarlo perché è saldato insieme al livello di sfondo non è stato creato un ulteriore livello per questo tipo di filtro faccio modifica annulla riflesso lenti ed ecco che sono tornato senza filtro ce n'era un altro simpatico allora filtri luci e ombra qui ci potevo mettere lo scintillio o la supernova voglio provare la supernova che è tipo una specie di stella qui la vado a posizionare questa schermata qui è un altro discorso che mi appare su windows per un'altra funzione perché potrei registrare come se fosse un gioco ecco la supernova la mettiamo là premo ok e ora verrà posizionata nel cielo della mia città sul mio lago l'abbiamo messa proprio vicino alla scritta ma non è male una specie di supernova una specie di stella di stella speciale tolgo il filtro perché ne approfitto per metterla in questa posizione qua allora filtro luce e ombra supernova la voglio mettere ah caspita però non si vede volevo metterla all'interno della scritta lago ma la scritta lago non la vedo per cui non ci riesco proviamo a vedere se per caso se io lavoro sul livello del lago di mantova vado su filtri luci e ombra supernova vediamo se io ho la possibilità di posizionarla la metto dentro lago eccola lì in teoria dovrebbe essere dentro la parola lago questo lo buttiamo via ok ed eccola qua è venuta non è un granché bello alla fine comunque è una cosa che si può fare lo annullo perché non mi piace modifica annulla supernova e come puoi vedere qui in filtri ci sono tantissimi filtri che tu puoi applicare alla tua selezione quindi alla scritta ma anche allo sfondo che c'era sotto in pratica nei programmi di fotoritocco tanto poi dipende dal tuo senso artistico dalla tua fantasia dal tuo provare le cose per ottenere risultati belli o meno questo però ha già un suo perché devo dire che mi piace potrebbe essere benissimo una copertina di un libro che magari potrei stampare sul lago di Matova per cui qua dentro ci sono un sacco di filtri che puoi divertirti a provare magari qualcun altro lo faremo anche noi ma non solo ci sarà anche la possibilità di arricchire il nostro carnet di filtri di arricchire tutti i nostri filtri con altri direttamente dalla rete quindi si apre un mondo quasi infinito io posso andare in internet e prendere un filtro che fa una determinata cosa e ce ne sono di molto belli di molto simpatici per cui vedremo di esplorarli un po' insieme bene direi che per questo video è tutto ti ringrazio per la visione ti invito a mettere un mi piace se ti è piaciuto a condividerlo a commentarlo ed eventualmente ad iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto perché per me è molto importante ciao iscriviti al canale ciao